Marina Lubian, purtroppo questa sera non siete riusciti a esprimervi ai vostri livelli. Sì, noi potevamo fare meglio, loro però veramente hanno fatto una partita ottima, impeccabili su tutti i fondamentali, quindi è stato difficile, era molto complicato per noi mettere giù la palla, il loro muro, quando non ci prendevano muro ci prendevano in difesa, quindi è stato difficile davvero, tanti meriti a loro, noi potevamo fare meglio ma ormai è andata e pensiamo alla prossima. È sempre stata una gara in salita, la vostra, però nonostante tutto l'avevate pareggiata, quel finale di terzo set probabilmente anche a livello psicologico vi ha penalizzato parecchio. Sì certo, sicuramente non ha aiutato quello, comunque è stata una partita sempre a rincorrere, bene o male, quindi sì, insomma, credo che anche un po' magari di atteggiamento, forse non lo so, è difficile adesso, però sì, non so cosa dirti, scusa. Senti, adesso però comunque al di là di tutto, comunque ci sarà una finale per il terzo posto che comunque mette in pali una medaglia. No, assolutamente, quello che ho detto anche a fine partita, che il Mondiale non finisce qui, c'è un'altra partita, c'è una medaglia da vincere, quindi insomma... Grazie. Grazie.